Sicuramente oggi è una giornata importante per la nostra regione e soprattutto per i nostri studenti, che sono ovviamente per noi il nostro futuro. Oggi appunto presentiamo questa importante piattaforma, che è una piattaforma sorprendo, che è un modo per aiutare non solo i nostri ragazzi, ma ovviamente anche i loro genitori e le famiglie, per capire in realtà come potersi orientare nel loro futuro, sia ovviamente da un punto di vista di istruzione, ma anche ovviamente per quello che riguarda il loro lavoro. Su questo infatti la regione Marche ha voluto fortemente investire delle risorse importanti, innanzitutto per evitare anche un triste fenomeno che è quello della dispersione scolastica, perché ovviamente se i nostri ragazzi sono consapevoli delle loro scelte e le fanno in maniera convinta e soprattutto sono supportati in questo, sicuramente possiamo evitare anche l'aspetto della dispersione scolastica, quindi avere dei ragazzi formati, dei ragazzi ovviamente consapevoli di quelle che sono le loro potenzialità.